Torniamo sulla danza con Paola Sorressa, coordinatrice AICS Danza. Io partirei, Paola se sei d'accordo con me, con il servizio realizzato da Patrizia Cupo sul quinto concorso nazionale di AICS Dance Now che si è svolto il 18 novembre al Teatro Greco. Qui a Roma. Quindi vediamo il servizio di Grazia Patrizia Cupo. Inclusiva, armonica, paritaria, fonde tecnica, espressività, cultura, sport e la danza. Arte antica, espressione di un movimento corporeo scandito da un ritmo ma anche espressioni di culture, tempi, linguaggio. Nella settimana dedicata alla lotta alla violenza di genere il concorso Dance Now che si è tenuto al Teatro Greco nei giorni scorsi a Roma ha deciso di farsi palco di parità portando in scena scuole di danza di ogni forge d'età e ballerini di fama eccezionale. Tra loro Enrica Palmieri, direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma e Francesco Ventriglia, anche coreografo e direttore artistico italiano, considerato il più giovane direttore artistico d'Europa quando a Firenze nel 2013 diresse maggio danza. Sul palco del Teatro Greco la Palmieri e Ventriglia sono stati premiati alla carriera da AICS Danza, promotrice del concorso rivolto a tutte le scuole italiane che si sono esibite nel classico, moderno e contemporaneo. Otto le scuole in concorso con allievi dagli otto anni in su per circa cento partecipanti. In palio per loro solo formazione specifica con borse di studio sia alla Dance Twinning Week Italia, stage di danza a cavallo tra Italia e Stati Uniti con i più grandi artisti della danza e workshop con ballerini di fama nazionale. Direttrice del concorso Paola Sorressa, coreografa firma della Mandala Dance Company. Grazie.